Diminuiscono le multe ma aumentano gli incidenti nel comune di Arezzo. I dati sono quelli della Polizia Municipale che in procinto di festeggiare il Santo Patrono San Sebastiano traccia un bilancio del 2015. 24.344 sono state le multe per divieto di sosta di più rispetto al 2014, 29.503 quelle per accesso fuori dalla ZTL, 3.497 quelle per eccesso di velocità. Al giorno tra divieti di sosta, uso del telefonino alla guida, eccesso di velocità e mancate precedenze, gli aretini che ignorano volontariamente il codice della strada sono più di 164. Ma nel 2016, assicura il vicecomandante Lunghini, non sarà un anno soltanto di multe. Ma è un anno che sicuramente vedrà l'incremento della Polizia di sicurezza. L'input anche dell'amministrazione è questo. Possiamo usare uno slogan, non solo multe, ma visto anche gli ultimi fatti e successi, l'incremento e l'impegno della Polizia Municipale sarà quello di codificare le altre forze di polizia per quanto riguarda la sicurezza e il controllo del territorio. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, rispetto al 2014 è stato registrato un aumento. Il giorno nero e il giovedì, nel solo 2015, ne sono stati contati 145. 26 casi di guida in stato di alterazione, 22 quelli per alcol e 4 per stupefacenti. Rispetto all'anno precedente sono raddoppiati. Sulla vertenza sindacale si è espresso il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. È risolta per quello che riguarda l'applicazione futura del modo di remunerare il festivo infrasettimanale, con pieno accordo tra amministrazione e vigili urbani. E siamo in via di risoluzione anche del problema del passato, cioè per come valutare quello che è già stato fatto, con uno schema organizzativo diverso negli ultimi due anni, che è quello che ha poi generato il contenzioso. Ho buone prospettive di arrivare a risoluzione anche di questa vicenza in maniera, come dire, concordata, quindi con una sorta di accordo che contenti un po' tutti e scontenti un po' tutti, ma trovando una soluzione. Cioè un problema è un po' rimanere aperto per quattro anni. E poi l'annuncio dell'imminente divieto di parcheggio, di fatto c'è già ma è puntualmente disatteso, sulla striscia di via Ricasoli di fronte al Sagrato del Duomo. Che è legata sia alla necessità di trovare dei posti non troppo lontani per i residenti del centro storico, che oggettivamente usano quel parcheggio improprio la notte, quando di fatto la presenza di veicoli è meno ingombrante, è meno fastidiosa che non di giorno. E l'altro è quello dei genitori che accompagnano i ragazzi alla Liotti, al Convitto, alle altre scuole che ci sono e voglio che ci rimangano nel centro storico. Quindi anche questo orario che è stato un po' ventilato, che probabilmente sarà quello, e c'è la possibilità di sosta dalle 20, non alle 8, ma alle 8 e mezzo, ha proprio questo senso, di rendere disponibile un piccolo parcheggio temporaneo per chi accompagna il figlio alla scuola. Non credo che si levi veramente niente a nessuno. Ora questo è un qualche cosa che ha un senso e che non crea secondo me nessun problema nel periodo invernale. Ci riproporremo il tema per l'estate, perché l'estate effettivamente anche di notte il centro storico è frequentato, è ben frequentato e le macchine parcheggiate non è che ci stiano un gran che bene. Quindi ci faremo una riflessione un po' più avanti.